Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale e in Fipili. Per le statali segnaliamo sull'Aurelia restringimenti per incidente tra Donoratico e Ciacina Sud in direzione nord. Ci spostiamo sul raccordo Siena-Firenze dove troviamo cantieri aperti tra Colle e Valdelsa Sud e Badesse nella carreggiata in direzione di Siena. Per il traffico ferroviario informiamo che quest'oggi la biglietteria di pescia è chiusa al pubblico. Uno sguardo al trasporto pubblico locale a Firenze è in corso quest'oggi uno sciopero di 24 ore dell'azienda di trasporto pubblico ATAF. Possibili disagi. Prima di salutarci per il traffico navale informiamo che per maltempo il traghetto Piombino-Cavo delle 16.05 è cancellato. Muoversi in Toscana-Inf è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.